Il libro propone quindi alcuni percorsi formativi Questa pubblicazione è rivolta a chi si occupa di formazione nonché ai professionisti dell'ambito socio-psicoeducativo quindi pensiamo a insegnanti, educatori, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali e che comunque lavorano nei diversi contesti di cura e dell'accompagnamento di bambini, adolescenti, di famiglie e in generale di genitorialità Il libro propone ai formatori prima di tutto nella parte introduttiva teorica un modello di apprendimento adulto che prevede che i partecipanti siano prima di tutto invitati a raccontare la loro esperienza professionale inevitabilmente anche personale, aiutati in questo da diversi tipi di storie, da strumenti narrativi Nella fase successiva vengono proposti, vengono introdotti dei contenuti teorici sugli argomenti trattati in modo che i partecipanti, dalla comparazione tra la propria esperienza e nuove conoscenze possano integrare, rivedere oppure anche validare le proprie cornici di significato, di pensiero da cui derivano le loro azioni e le loro decisioni Il libro propone quindi alcuni percorsi formativi attraverso diversi tipi di storie che rispettano, che seguono queste fasi del modello di apprendimento da cui i formatori possono liberamente trarre spunto per degli adattamenti creativi e soprattutto contestualizzati all'ambiente dei partecipanti con i quali poi andranno a vivere l'esperienza formativa Grazie! 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 Grazie!